salve classe compagne e compagni questo video è per chiedere la vostra opinione adesso vi mostro un po di libri ebbene nell'ambito dell'insegnamento della lingua italiana sul canale di youtube che si chiama come me Noemi Marcialis abbiamo utilizzato questo libro i fasti del poeta Ovidio quindi abbiamo usato durante le prime quattro lezioni il libro di un autore latino ovviamente l'abbiamo letto in traduzione abbiamo letto alcuni brani alcuni versi del libro terzo dei fasti ora vi chiedo fra i libri che vi vado a mostrare quale preferireste ovviamente sono tutti se non sono stati scritti in italiano però io ve li leggerei in traduzione allora Scott Fitzgerald l'ultima volta che vi di Parigi vorreste sentirmelo leggere oppure Virginia Woolf diario di una scrittrice vorreste sentirmi leggere questa scrittrice oppure femminismo per il 99% un manifesto scritto da Cinzia Arruzza Titi Battacaria non sono assolutamente sicura della pronuncia e Nancy Fraser oppure vorreste sentirmi leggere Isabel Allende Eva Luna o infine il libro tradotto dall'inglese di un'autrice che però deve essere di ascendenza latina Clarissa Pinkola Estes che è una terapeuta una psicologa di orientamento junghiano quindi ditemi fra questi libri quali preferite Donne che corrono con i lupi di Clarissa Pinkola Estes Eva Luna di Isabella Scende Feminismo per il 99% di Cinzia Arruzza e altre autrici Diario di una scrittrice di Virginia Woolf oppure Francis Scott Fitzgerald l'ultima volta che vi di Parigi pronunciatevi per il canale ciao